Qual è il problema? Il signor Fox ha preso il suo zaino per un collaudo e si è schiantato contro l'ametista. Aiuto! Aiutatemi! Grande Gardenia, l'ametista potrebbe cadere come una foglia in autunno. L'impatto ha allentato il blocco. Seguitemi. Bumblebee, tu afferra il signor Fox. Io penso all'ametista. Sono pronta! Non ci riesco! Sono bloccato! Andrò lì dentro! Signor Fox! Harley, vai! Bumblebee! Qualcuno ha visto dove è andato quell'ippopotamo? E questa roba dovrebbe essere rilassante. Mrs. Clayface. Oak Girl! Che cosa stai facendo qui? Secondo te? Un crimine! Cosa? Avete sentito qualcosa? Soltanto il suono della mia pace interiore. Giganta sta rubando i gioielli dell'eclipso. Beast Boy, guida il gruppo per mettere i cittadini fuori pericolo. Oh sì! Salverò i cittadini come un capo! Cheetah, Bumblebee, Harley, Supergirl, voi venite con me. Ho detto di metterlo giù! D'accordo. Lo hai voluto tu? Oh no! Wow! Come hai imparato a farlo? Ha ciappologia avanzata. È facoltativo. Ehi! No! Stop! No! Oh, Bumblebee! Se il diamante può crearlo, può spezzarlo! Vai, figlio! Ancora quei mostriciattoli! Sto male. Batgirl, la devo allontanare dalla Kryptonite. Prendi il comando. Ricevuto! Mettiamoci al lavoro! Ah, sì! No! Versaglio, scuola superiore del supereroe. No! L'ufficio informatico. Per fortuna la nuova consulente non lavora il sabato. Devo mandarle un messaggio per dirle che ho distrutto il suo ufficio? Io credo che sarà meglio andare a dirglielo di persona. Un mantello Per volare via verso l'area Un mantello E potrò sconficciare il mare Un mantello Devo mandarlo È tutto il misterio Grazie a tutti.